e ha ricevuto la menzione speciale al dame design award del mezzo 2022 revolve revolve è un mezzo marinaio prodotto da cv progress che una volta richiuso occupa meno di 10 centimetri di spazio mentre una volta srotolato arriva a lunghezza di 2 metri oltre al classico gancio per poter prendere e rilasciare le cime ci sono degli accessori in dotazione ad esempio le spazzole le spazzole possono essere collegate sempre all'estremità del mezzo marinaio utilizzate per pulire il ponte e poi c'è un altro speciale accessorio che può essere utilizzato per esempio per fissare una fotocamera una luce e utilizzare il mezzo marinaio per fare dei controlli sott'acqua per esempio anche alla barca un prodotto veramente innovativo che ha valso la menzione speciale quest'anno ai design award al mes 2022 essential è la batteria prodotta da acceleron che è stata inserita con la menzione speciale tra i nominati da my design award 2022 che cosa che rende speciale questa batteria innanzitutto la sua leggerezza pesa 15 chili perché è una batteria a litio ferro fosfato non ci sono acidi pesanti al suo interno e oltretutto il suo funzionamento diciamo compatibile con la green economy perché perché la batteria al suo interno ha un cuore riciclabile una volta esaurito che può essere sostituito con dei nuovi pacchi batteria ma senza dover cambiare tutta la struttura esterna che rimane sempre la stessa la batteria 5 mila cicli di carica può raggiungere picchi di 200 ampere è disponibile in tre tagli da 12 24 e 48 volt e volendo può essere collegata insieme ad altre batterie per raggiungere una capacità di oltre 2000 2000 ampere ora si chiama 5912 dorsal l'antenna di shakespeare marine che è stata inserita tra i nominati al dame design award 2022 e oltre al suo design inusuale a forma di pinna sono le sue pensazioni di aver convinto la giuria questa è un'antenna pensata per barche fino a 15 metri e un'antenna vhf is e anche un'antenna radio mfm ha una portata di 4 miglia a 1 watt e di addirittura 10 miglia a 25 watt il suo design permette di non farlo impigliare per esempio in cavi e sui materiali molto resistenti consentono una durata estesa nel tempo e un'antenna